Veloce come il vento, la Maserati Mistral raccontata da Cristiano Luzzago Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una delle più belle Maserati prodotte, si tratta della Maserati Mistral. La peculiarità di questo modello rispetto a quelli precedenti è che cambia radicalmente nella linea, infatti come sappiamo Maserati da piccola industria automobilistica che produceva solo due o tre auto al mese con la Touring 3.5 GT iniziò a fare una produzione molto più ampia che le consentì di approcciare a un mercato internazionale. La linea della Touring e della Sebring, che erano più tradizionali ancora a tre volumi, avevano un po' marcato il tempo. Con gli anni 60 la necessità era quella di avere nuove linee molto più attraenti e in linea con il gusto del tempo. Maserati affidò a Pietro Frua lo studio di questa bellissima carrozzeria. Una delle cose che si nota principalmente è il frontale, molto basso, sfuggente, con la calandra del radiatore bassa al di sotto del paraurti, mentre nelle Maserati precedenti la calandra è sempre stata in vista. Con un padiglione molto lungo, quindi diventa uno a due volumi più che una tre volumi e con un portellone posteriore di cristallo che le consente di avere una profilatura molto più aerodinamica e in linea col gusto del momento. La linea della Maserati Mistral è molto molto attraente e nonostante siano passati tanti anni continua ad essere una delle più belle Maserati, secondo la mia opinione, mai prodotte. Ed è anche una pietra miliare perché con la Maserati Mistral termina la produzione di vetture Maserati con il classico motore sei cilindri bialbero che dagli anni 40 equipaggiò le Maserati nelle Formula 1 per passare poi ai modelli successivi che saranno invece dotati dei motori otto cilindri. La Maserati Mistral, se è l'ultima che monta i sei cilindri, è la prima che viene denominata con il nome di un vento. Infatti il Mistral è un vento freddo che viene dal nord della Francia meridionale che fu suggerito proprio dall'importatore francese della Maserati il quale sfortunatamente morì proprio in un incidente automobilistico con questa vettura. La Maserati Mistral fu presentata col tradizionale motore 3.5 di cilindrata. Nei modelli successivi fu però introdotto il 3.700 e per ultima la 4.000 come l'esemplare che abbiamo qui con noi oggi. Il motore è il classico sei cilindri doppio albero a cam in testa che su questi modelli era equipaggiato con l'iniezione che era una primizia introdotta già con le Touring ed era molto vantaggiosa sia per i consumi che per le prestazioni su questi modelli. Purtroppo soprattutto in America dove mancavano meccanici specializzati nel mettere a punto queste iniezioni questi modelli venivano trasformati a carburatori come le primissime 3.500 Touring. Al di sotto del vestito rivoluzionario per le Maserati dell'epoca la parte meccanica sostanzialmente non subisce grandi modifiche anche a livello telaistico e di sospensioni anteriori che sono a molle posteriori a balestre con i quattro freni a disco e il cambio a cinque marce. Quello che invece è veramente dirompente nella tradizione Maserati è quella che è la parte interna della vettura che negli altri modelli precedenti era sempre quattro posti invece in questa e soltanto due posti come accessorio si potevano avere due seggiolini di fortuna posteriori e questa plancia molto ampia quasi circolare con la strumentazione disposta in un modo completamente nuovo rispetto alle tradizioni Maserati che dà un aspetto proprio di grande novità rispetto a quello che si era sempre visto nelle vetture sportive del tempo. Altra caratteristica notevole su questo modello è il portellone posteriore. Questo portellone che abbiamo detto in cristallo offre una possibilità di carico addirittura esagerata per una vettura sportiva e la rende unica nel suo genere ed è particolarmente bello sia a livello stilistico che anche di comfort. Altra caratteristica che rende molto bella la Maserati Mistral sono le ruote a raggi borrani. Negli ultimi modelli verranno equipaggiate anche con dei cerchi in lega molto simili a quelli che saranno poi utilizzati sulla Ghibli e su altri modelli. Grazie a tutti!